Ad Amatrice alcuni parlamentari hanno accolto l'invito del sindaco Pierozzi a vivere da vicino l'emergenza post-sisma. Vediamo con Claudia Mazzola. Toglietevi la giacca e la cravatta e venite qui. State qualche giorno con noi. L'invito parte dal sindaco di Amatrice, destinatari ai parlamentari. Obiettivo, far vivere in prima persona. Cosa significa essere terremotati? È un momento importante per dimostrare che la politica c'è, che dovranno vivere per 72 ore quelle che sono le emozioni di stare in un'area sfrattata a tempo, per dare poi un contributo a un Parlamento o per accelerare ancora tutti quelli che sono i decreti attuativi. La politica accetta la sfida, il fronte è trasversale. Io sarò i tre giorni previsti dall'invito del sindaco e saranno tre giorni per capire bene cosa sta funzionando e cosa non sta funzionando qui. Ovviamente cercando di portare poi le migliorie legislative che servono appena rientreremo a Roma. Facciamo di questo.